Gentili telespettatori, buona giornata. Gasparri denuncia la RAI, vuole procedere per vie legali contro la RAI. Che cos'è successo? Il senatore di Forza Italia Gasparri mostra in commissione di vigilanza durante l'audizione del conduttore di report Sigfrido Rannucci e del direttore degli approfondimenti RAI Paolo Corsini una carota come regalo per Rannucci, venendo richiamato poi dal presidente della commissione Barbara Floridia. Dice qui non mangiamo nessuno, ha detto Gasparri, nessuno vuole censurare nulla, tutto andrà avanti come sempre. Poi attacca la RAI e parla di querele, denunce. E dice proprio questo, in questo momento su un sito della RAI, quello di Report, o Report come dice qualcuno, che sta riportando notizie e commenti su questa audizione, leggo dei commenti di vario tenore, che so bene che non sono della redazione ma della gente, indirizzati alla mia persona, uno dei quali dice che bisogna usare il passamontagna per affrontare uno come Gasparri. Quindi è ovvio che io me la prenderò legalmente con la RAI, col direttore dell'approfondimento e col direttore generale, perché i commenti con minacce di questo tipo possono essere rimossi. Considero questa denuncia, prosegue Gasparri, una denuncia formale agli uffici della Polizia e dei Carabinieri del Senato e della Camera, ai quali domani mattina consegnerò tutto questo materiale, perché in questo momento un sito della RAI sta pubblicando minacce dirette e personali. Quindi lei, dice Gasparri rivolgendosi al direttore dell'approfondimento Paolo Corsini, ne è responsabile penalmente come tutta l'azienda e domani allegherò alla mia denuncia questo intervento per fatto personale e penale. Beh, qui è un qualcosa di controverso, perché immaginatevi tutti i commenti che ci sono sulle piattaforme da Facebook, Instagram, YouTube. La persona che ha il canale, la pagina in Facebook, non è responsabile di quello che scrivono gli altri e non è neanche responsabile potendo dire, beh ma tu li puoi cancellare, perché una persona non è obbligata a leggersi tutti i messaggi e stare lì a valutare se uno è penalmente rilevante o no. Pertanto non si può dire che il proprietario di una pagina, di un canale o un utente, quello che commentano le persone sotto i suoi post è penalmente rilevante per chi ha fatto il post. Attenzione, se voi offendete, calunniate, diffamate una persona sui social potreste risponderne penalmente e civilmente se venite denunciati e se venite scoperti dalla persona offesa, perché è tutto qua. Tu non sei responsabile di quello che scrivono gli altri sulla tua piattaforma, sul tuo blog. Dire che tu puoi cancellare quei messaggi prima di tutto devi saperlo. Per esempio, sul mio canale arrivano circa 4000 messaggi al giorno. 4000. Bisognerebbe assumere una persona o più persone per fare leggere ogni messaggio e per fargli valutare se ogni messaggio sta facendo un'allusione che è una diffamazione. Insomma, è una cosa assolutamente assurda. Ecco, o i governi un giorno diranno che sui social non si può più commentare, si può solo leggere, come se fosse un giornale, ma dire che ognuno è responsabile per i messaggi sotto i post... Non so, voi scrivete un post su una pagina famosa, sotto il tuo post rispondono in 300 e tu diventi responsabile per quello che rispondono gli altri, perché tu li puoi cancellare, ma per cancellarli tu devi saperlo. Mica puoi passare la giornata a leggere i messaggi sotto i tuoi post. È ridicolo, no? Quindi Gasparri dice che denuncerà, ma lui dice, ma io lo so che i post non li ha scritti la RAI, li ha scritti qualcun altro, ma voi siete responsabili, perché li potete rimuovere. Ma li possono rimuovere dopo una segnalazione, ma se non c'è una segnalazione cosa fai la RAI? Assume migliaia di persone per controllare i post che scrive la gente? Assumiamo una persona per ogni utente? Voi avrete una persona che è addetta a controllare quello che scrivete su internet? Capite che è una sciocchezza. Vabbè Gasparri in questi ultimi periodi è abbastanza aggressivo politicamente, ma aggressivo in un certo modo, nel senso che dice le cose come stanno e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Però su questo credo che la denuncia penale per il dirigente della RAI, denuncia penale perché uno ha minacciato Gasparri in un post, non può procedere da nessuna parte. Naturalmente adesso la RAI, che ha saputo ufficialmente che ci sono delle minacce a Gasparri sui post, a quel punto la RAI è obbligata, dopo che il diretto interessato ha mostrato, ha detto queste cose qua, la RAI sarebbe obbligata ad andare a cancellare questi post. Anche se di solito se uno normale come noi chiama o cerca di mettersi in contatto con una piattaforma per dire guarda che tizio mi ha insultato, allora loro poi vanno a verificare se hanno tempo e nella maggior parte dei casi ti dicono ma noi non rileviamo niente di strano, non rileviamo nessuna accusa, nessun insulto. Non so a quanti di voi è capitato di segnalare qualcuno e sentirvi rispondere non abbiamo riscontrato nessuna violazione della policy aziendale oppure manco ti rispondono. Difficile che dopo la segnalazione di un post ci siano dei provvedimenti da parte delle piattaforme, molto difficile. O ti rispondono guarda che per queste cose devi andare tu per vie legali, noi non c'entriamo niente, è un problema tuo, noi possiamo magari forse rimuovere il post proprio. Ecco. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi di Teleitalia Seconda Rete dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. E poi questi video sono condivisi assieme a quelli di Teleitalia Seconda Rete nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti, buona giornata.